Gli effetti benefici dalle passeggiate, soprattutto in questa stagione, sia per i piccoli sia per gli anziani, sono innegabili. Ed è anche vero che non siamo abituati a stare reclusi in casa, ma i risultati ottenuti fino ad ora con le limitazioni messe in campo per fronteggiare l'emergenza coronavirus stanno funzionando. Per questo al momento l'unica possibilità consigliata, anche dai pediatri, è quella di restare in casa. Stiamo cominciando a vedere qui in ospedale in realtà una riduzione degli accessi al pronto soccorso, il che significa anche una riduzione auspicabile dei casi che poi dovranno purtroppo evolvere in situazioni più gravi. Questo è sicuramente dovuto al rispetto di tutte le norme che quotidianamente ci vengono suggerite e ricordate e credo che questi risultati non debbano e non possono essere bonificati da adesso in avanti con un comportamento generale che sia più liberale. Anche se ovviamente per tutti noi la reclusione in casa non è sicuramente un aspetto al quale siamo abituati. Questo è ancora meno piacevole e sicuramente più complesso per le famiglie con bambini. Ma secondo noi, come diciamo pediatri, non è ancora il caso di liberalizzare questo tipo di comportamento, proprio perché potrebbe vanificare tutti i risultati positivi che finora abbiamo raggiunto.